L'ha rimbassato! Centrato! È il corpo! L'abbiamo preso! Centrato! L'abbiamo preso! Bell' colpo! L'abbiamo preso! Cannone danneggiato! Abbiamo perso precisione! Preso! Li abbiamo appena aggraffiati! Li abbiamo dalleggiati! Non l'abbiamo preso! Aspetto! Abbiamo fatto il solletico! Corazzato nemico danneggiato! Li abbiamo danneggiati! Siamo immobilizzati! Corazzato nemico danneggiato! Ripartiamo! Centrato! L'abbiamo preso! Veicolo nemico distrutto! L'abbiamo preso! 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 Preso! Inizia a ripiegare. Ci hanno presi! Tutti fuori! Inizia a ripiegare.